Ed ora una notizia di cronaca giudiziaria che arriva da Albareto. Infatti un 42enne ha approfittato dell'assenza prolungata di un vicino e si è introdotto nella sua casa, portandogli via gran parte dell'arredamento. Una volta scoperto ha ammesso tutto ed ha restituito in bantolto, ma questo non gli ha evitato un processo. Il protagonista di questa vicenda è un 42enne di Albareto che è stato imputato per furto. La procura di Parma gli ha notificato un decreto penale di condanna che gli impone di versare una sanzione di 20 mila euro, ma l'uomo l'ha impugnata ed il procedimento sta seguendo il normale dibattimento. Durante il processo l'uomo ha chiesto di essere messo in prova ai lavori di pubblica utilità. La prossima udienza è fissata a gennaio. I fatti risalgono a tre anni fa.